...che in realtà atteneva a loro. Però, al di là di queste motivazioni ufficiali, e in qualche modo ormai la storiografia ci ha dato sufficienti indizi, se non prove, che l'invasione del Kuwait fu in qualche modo una tracola preparata per attirare Saddam Hussein, dicevo, appena scavando un pochino, cantando la superficie, troviamo quelle che sono in realtà le motivazioni vere di quello suo modo strategico. Per non essere spintito, userò un testimone d'eccezione, e cioè il presidente degli Stati Uniti dell'epoca, George Bush, Bush Senior, il quale, di fronte al congresso degli Stati Uniti, a poco più di un mese in distanza dall'invasione del Kuwait, siamo nel settembre del 1990, la guerra si tratterà a gennaio del 1991, dicevo settembre, e per gli avanti delle coincidenze, per i dietrologi, io vi guardo le piogge, il successo che tra le voci di qualcuno, era l'11 settembre del 1990, quindi data come emblematica, davanti al contesto degli Stati Uniti, Bush Senior pronuncia queste parole. La crisi nel Golfo Persico offre una rara opportunità di avanzare verso un periodo storico di cooperazione. Un nuovo ordine mondiale può emergere, in cui le nazioni del mondo, dell'est e dell'oest, del nord e del sud, possono prosperare e vivere nell'armonia. Oggi il nuovo mondo sta lottando per venire alla luce. Ecco, profezia da un lato, mai fu più sbagliata di questa, perché nei vent'anni successivi, nessun paese visse nella prosperità e nell'armonia in quella regione. Però, dall'altro punto di vista, era una profezia, come dire, autoavverante, perché Bush Senior aveva chiaro la visione di dietro di lui, ovviamente, tutti i bacini di pensiero americani, che sono fattori di strategie di lunghissimo periodo, che se un vecchio ordine mondiale, quello basato sulla contrapposizione dei blocchi, comunismo, capitalismo, Stati Uniti, Unione Sovietica, era finito, era necessario costruire un nuovo ordine mondiale, un nuovo mondo, per prolungare quello che era della loro visione, diventamente un altro, un nuovo secolo americano. E se andiamo ancora in profondità, in quello che può essere considerato il nesso strategico della prima guerra del Golfo, secondo me, per dare una possibile interpretazione, basta guardare che cosa è cambiato in quell'area da prima della guerra del Golfo a dopo la guerra del Golfo. Secondo me è cambiato fondamentalmente un elemento, e cioè l'ingresso permanente delle truppe americane, degli eserciti americani, sulla penizia dell'Arabica. Quindi in questo senso, si parla della prima guerra del Golfo come della prima guerra del petrolio, dell'epoca contemporanea. Io non sono completamente d'accordo, o meglio, sono in un'ottica diversa, e cioè la strategia fondamentale di quella guerra era di cristallizzare il potere sulla penizia dell'Arabica, piuttosto che nei confronti dell'Iraq. L'Iraq serviva in qualche modo come pretesto, il brutto e cattivo Saddam Hussein, caduto nella trappola fuhaitiana, era in qualche modo la minaccia presente e incombente perché serviva per una manovra di accertamento, di consolidamento del potere. E questo giustifica anche il fatto che Saddam Hussein resta dal potere, da quel momento tra altri dieci anni passa, pur avendo perso in maniera disastrosa quella guerra. Perché Saddam Hussein entra lì? Perché a mio avviso gli americani lo tengono lì, perché doveva essere una minaccia, un simulato, un elemento di minaccia, che serviva per altri scopi. Gli altri scopi erano quelli appunto di cristallizzare, leggere intangibile, l'accordo di potere tra stati uniti, tra alcune, meglio, fazioni di potere degli stati uniti, alcune fazioni di potere del sommismo della penisola arabica, che in una fase successiva alla guerra fredda, potevano disciogliersi. Durante la guerra fredda, i russi non si sarebbero mai permessi di avvallare un cambiamento di potere in quell'area, perché gli altri non venivano. Ciò veniva portato direttamente alla terza guerra mondiale. Nel momento in cui non c'è più il controllo determinato dalla contraposizione di quei blocchi, ecco che eventualmente nella famiglia regnante saudita si possono aprire delle voragie. Io non so se voi conoscete un po' i rapporti di potere di queste entità. La famiglia saudita, per fare un esempio, è una famiglia lariatissima, fatta di cugini, fratelli, nipoti, spesso in blocchi contraposti tra di loro, perché ad esempio il monarca ha 5, 6, 10 uomini e i figli di ognuna di queste uomini rappresentano un gruppo di potere in contraposizione ai cugini o ai fratelli astri. Ecco dunque che lo scopo strategico appena prima di aver riconosso e direi di cristallizzare questo potere. Faccio un salto, vado avanti di dieci anni, arrivo al Cosmo, che è stato citato anche giustamente da Giuseppe. Anche qui le motivazioni ufficiali le conoscete bene, i diritti umani, la difesa di questa minoranza corsovara sotto l'origine almanese, minacciata, l'utilizzo etnico, gli stermini, il genocidio. In realtà anche qui io voglio usare le parole di un testimone di eccezione, cioè di Michael Jackson. Adesso voi pubblici questo ematto. In realtà parlo di, del generale Michael Jackson, capo britannico, capo della missione militare in Cosmo, il quale, prima di entrare nella tenda dove avrebbe da lì a poco firmato l'armistizio con i generali dell'esercito di Cosmo, rilasciava delle dichiarazioni pubbliche, alla stampa, in cui ovviamente incensava l'operazione della NATO, una grande operazione di pacificazione, di difesa, dei diritti umani, però poi come una sorta di squarcio, di verità, dice anche questa piccola frase. Siamo qui anche per difendere i corridoi dell'energia che attraverso i Balcani che raggiungono l'Europa. C'è un, viene così denominato il corridoio numero 8, è una grande linea commerciale attraverso cui transitano le merci, transitano in realtà anche i traffici illeciti e in cui si incanavano i gasdotti, i biodeodotti che dall'Europa all'Asia centrale attraverso il Caucasus o attraverso i Balcani arrivano all'Europa occidentale. Quindi, come dire, nell'epoca già di maturità di quella che era la globalizzazione di San Bibi alla fine degli anni 90, c'era rimasto un piccolo tassello nei Balcani che doveva essere normalizzato. C'era il rimasurio di quello che è stato un grande stato in Europa e in Groslade, c'era ancora un presidente di Loseric che non era completamente conforme e desiderato dai padroni della locomotiva ed ecco che il Kosovo consente di liberare e normalizzare definitivamente il Corredo d'Otto. Un altro piccolo salto in pochi anni, l'11 settembre, quello vero, come potete, del 2001, e quindi l'invasione dell'Afghanistan e dell'Iraq. Io mi vorrei concentrare a un attimo soprattutto sull'Afghanistan. Sull'Afghanistan diciamo dare una sorta di sentenza su quello che è stato significato che è significato strategico della guerra dell'Afghanistan è difficile perché è ancora in corso. Io però vorrei portarvi tre counter precative e poi voi utilizzatele come meglio del libro. La prima è quella che prima è stata citata. Secondo me è la geopolitica del caos. Io sono un fautore di questa tecnica di dominio perché il dominio di un'area geografica si può tenere evidentemente in due parti. Direttamente io comando e chi è lì sono subito e devono fare quei piccoli. Questo diciamo è il metodo plateale. C'è un altro metodo indiretto che può essere molto utile in certe congiunture storico-politiche per cui io magari non riesco a dominare nel caso degli Stati Uniti direttamente un territorio in questo caso l'Afghanistan perché è completamente destabilizzato. Però attenzione questo non è necessariamente una sconfitta perché se io non ho il controllo di quell'area non ce l'avano neanche gli altri allora in talunni passaggi storici politici può essere addirittura più utile che siano gli altri a non avere il controllo su quel territorio piuttosto che averci lo stesso perché poi queste strategie si decidono anche non nell'immediato come noi siamo spesso abituati a pensare pressare le notizie della televisione eccetera queste sono strategie che vengono conto dei decenni se non addirittura dei secoli e questa destabilizzazione questa geopolitica del caos nel caso dell'Afghanistan ha due valenze una è in confronto ad esempio dell'India perché il gasfotto che viene definito il gasfotto della pace cioè che dovrebbe unire il Turkmenistan attraverso l'Afghanistan e il Pakistan arrivare dall'India finché ci sarà e quindi determinare necessariamente una collaborazione tra Pakistan e India altrimenti nemici storici e dare all'India la possibilità di uno sviluppo autonomo in cui gli Stati Uniti avrebbero poca parola poca parola da spendere ecco che finché c'è la guerra in Afghanistan finché c'è la la stabilizzazione dell'Afghanistan questo gasfotto della pace non potrà mai vedere la luce da un altro punto di vista la destabilizzazione dell'Afghanistan è stata spinta addirittura negli eventi sembra quasi volontariamente io penso che sia così volontariamente spinta dentro il Pakistan per cui l'Afghanistan e il Pakistan oggi sono stretti una braccia mortale la destabilizzazione di uno corrisponde alla destabilizzazione dell'altro e il Pakistan non a caso è un alleato strategico della Cina e se noi vediamo tutte le aree di cerni di confine tra sul continente cinese e l'Asia centrale quindi la parte più all'occidente vediamo che tutte queste regioni sono sovillate sono destabilizzate a partire dall'Axinghian al Nord al Tibet il Myanmar il Pakistan ecco quasi a formare un cuscinetto di destabilizzazione che impedisce una possibile espansione quindi da fermarsi di un'egemonia della Cina verso l'Asia centrale vi do un altro chiave di legura per l'Afghanistan è che l'Odia se si guarda la storia recente dell'Afghanistan si nota una corrispondenza addirittura quasi matematica con la condizione di l'Odia in questo senso dagli anni settanta e poi ogni volta che c'è una guerra o un cambiamento di potere in Afghanistan e di guerra ce ne sono state praticamente in maniera ininterrotta la tenda per l'Odia questa parte ma addirittura un cambiamento politico di guerra si nota che prima c'è un calore della produzione di opium poi succede qualcosa valpotere qualun'altro una successione del potere scopri una guerra e la produzione di opium riscontra improvvisamente questo diciamo un esempio più e più facile che ricordo nel 2000 nel 2000 le banche avevano praticamente azzerrato la produzione di opium in Afghanistan 11 settembre 2002 la produzione di opium rispordi assolutamente addirittura l'Afghanistan diventa il centro della produzione mondiale di opium e io qui vi porto un'altra coincidenza per le domande del complotismo se negli anni 60-70 con le guerre in Vietnam in Cina era quell'altro la maggiore produttivice di opium oggi è l'Afghanistan il maggior produttore di opium anche lui c'è la vera la produzione americana magari una coincidenza io ve lo porto come un dato di fatto comunque ecco con l'Afghanistan e l'Iraq l'accertamento dell'Iran è sponersi concluso e io vi porto come dire veniamo appunto al tema più centrale che è appunto quello dell'Iran improvvisamente quasi per una cia dopo questo accertamento in in Iran si comincia un'altra intanto magari è il ciasno di non lo ho perché non ci sono ma non ci sono ma non è ma si beh ricorda il fatto non lo potevano non lo potevano ma un'uomo si Per finire il primo tempo, non c'è il secondo tempo, quindi è stato più che venevo questa interezione. Dicevo, con l'accerciamento completato dall'Afghanistan e l'Iraq dell'Iran, e quindi se noi abbiamo confini dell'Iran, vediamo un accerciamento fisico e militare concreto, vediamo un altro capitolo della geopolitica del caos, perché improvvisamente, quasi per magia, uno Stato con una forte identità nazionale come quello di Ragnano, pur essendo, come altri paesi della regione, pieno di etnie diverse, per cui la maggioranza e le etnie diverse hanno, sono presenti Azevi, sono presenti Curvi, sono presenti Giavoli, sono presenti Belucci, tutte queste entità etniche, ripeto, come per magia, cominciano ad essere sollecitate, vanno in evoluzione. Si formano gruppi terroristici che, appunto, proprio nei confini del Kurdistan, al sud, come l'Iraq, nella regione del Belucistan, che è a cavallo tra Afghanistan, Iran e Pakistan, cominciano a portare degli attacchi terroristici contro la popolazione, e, addirittura, è il caso, puoi parlare anche quello del Belucistan, in cui ci sono state centinaia di morti con bombe messe nelle chiese, nelle moschee e scivite, perché è un gruppo del Belucistan, un gruppo redentista, ma anche integralista sull'Unita, contro la maggioranza dei branchi e delle scivite. Quindi queste, diciamo, sollecitazioni etniche, che sembrano quasi preparare l'unifus, preparare il terreno per qualcosa che dovrà maturare successivamente. Lo scenario, quindi, la monaccia etnica è quella che io ho cercato di darvi una sorta di panorama concatenato, appunto, di quella che è stata la formazione di una sorta di atto di crisi, che addirittura vada dall'Europa orientale, attraverso tutto il Medio Oriente, va a quanti i subcontinenti indiani, indiani-cinesi. E io sostengo, e anche prima Giuseppe lo faceva, che il punto di arrivo, il punto di approvo naturale di questo arco di crisi sarà necessariamente un grande, perché se basta guardare una cartina geografica, ci si rende immediatamente con, perché l'Iran è il centro geografico di questo arco di crisi creato appositamente nel corso degli anni. Quindi l'Iran è il punto di arrivo di questa strategia. Di nuovo vi do alcune chiacchiate interpretative, una che ho già anticipata, che è quella punto geopolitica, geografica, l'Iran è il centro di questo arco di crisi e chi controlla l'Iran, prima è stato accennato, controlla la Cina. Io però voglio darvi, controlla il mondo, e quindi di converso controlla la Cina. perché io voglio darvi quella che è la mia interpretazione geopolitica, poi magari ne discutiamo insieme. All'inizio del secolo i geostrategi americani inferivano che intorno all'anno, nel 2015-2020, la scesa della Cina non sarebbe stata più sotto controllo da parte degli Stati Uniti. Ora voi capite bene che è il 2015-2020 e domani. E quindi loro si sono, come dire, preluminti per tempo per arrivare a questo momento. E cioè, se gli Stati Uniti riusciranno ad avere entro il 2015, quindi ci siamo, il controllo sui rubinenti dell'energia di tutto il meteo oriente, Iran compreso, potranno dettare alla Cina le condizioni da una posizione di forza. Questo, secondo me, è quello che sta avvenendo. Vi porto dei dati energetici per capire come questo potrebbe essere possibile. Per quanto riguarda le riserve di petrolio, l'Iran è il terzo paese all'unico. Dietro l'Arabia Saudita e Venezuela. Ora, Venezuela è dall'altra parte del mondo e quindi interessa poco. E quindi l'Arabia Saudita e l'Iran si giocano, come dire, la supremazia per la detenzione del petrolio. Se noi mettiamo insieme questo dato con quello del gas, abbiamo un risultato estremamente interessante perché il primo paese del settore di gas al mondo è la Russia. Ma secondo, subito dopo, c'è l'Iran con questa piccola differenza che mentre le riserve della Russia sono destinate a finire, a meno che non trovi un altro giacimento per esempio dell'Artico, è destinato a finire da qui a 80 anni, le riserve di Ranghe finiranno da qui a 300 anni. L'Arabia Saudita che è il quinto paese del territorio di gas terminerà le sue riserve da qui a 100 anni. Ecco, voi capite bene che inendo questi elementi l'Iran è assolutamente strategico, è il forziere energetico del mondo. Per gli Stati Uniti controllare questo forziere vuol dire chiedire la vaccina. Cosa vuol fare? Vuol la guerra? sei pronto ad affrontare la guerra? Oppure dire mettiamoci d'accordo però tu fai il socio di ignoranza dell'impero eventualmente. Tu accetti Cina le regole che io ti dico. Tu non hai un tuo sviluppo nazionale di penetrazione dell'Africa e fare gli affari in Sud America. tu fai quello che io ti dico di fare sostanzialmente. Certo ti cede un po' di potere collaboriamo però tu sei il socio di ignoranza dell'impero. Ecco che in questa visione il baricentro del potere che nel secolo scorso era stato sull'Atlantico Nord America Europa ecco che in questa visione potrebbe spostarsi sul Pacifico diventare un baricentro appunto sul Pacifico in cui gli Stati Uniti e Cina possono cominciare a integrarsi sempre di più in cui gli Stati Uniti avranno il predomino ovviamente militare tecnologico che poi è quello che conta la Cina sarà sempre di più il grande produttore ma chi detterà le regole del gioco saranno ovviamente i generali americani ma sopra di noi saranno le regole della globalizzazione finanziaria saranno le globalizzazioni finanziarie saranno le grandi concentrazioni finanziarie ad aver vinto e conquistato il pianeta e ovviamente come dire come conseguenza di questa eventuale colosso creazione di questo colosso a due gambe una più forte e una più patria la famiglia di spese sarà lo che abbiamo tutti l'Europa l'Europa che da un lato continuerà a subire il predomino militare politico e culturale degli Stati Uniti e dall'altro come veniva ricordato prima sarà sempre di più comprato a pezzi da parte delle cime siamo quindi diciamo alla fine di questa panorafica e ci sono due linee strategiche per arrivare al controllo e alla normalizzazione dei virali due strategie che hanno negli Stati Uniti corrispondono a ben precisi determinati gruppi di potere che sono talvolta in contraposizione talvolta collaborano e che sono sostanzialmente così semplificanti una è quella della guerra cioè veniamo duro e come eravamo fatto in Afghanistan e in Iraq domani lo facciamo con l'Iran c'è un'altra linea strategica diciamo di più di ordine democratico tra virgolette perché sono sempre visioni imperiali ma con metodologie in qualche modo diverse l'altra versione è quella di soft power cioè o di provocare un cambiamento di regime in Iran che sia più impenevole nei confronti dell'Occidente addirittura come sostiene ad esempio un giostratego americano di origine polacca di arrivare all'ora di un accordo un accordo con l'Occidente con l'Iran in modo da attrarlo verso l'Occidente voi capite che si tratta come dicevo di due linee di strategie strategiche comunque imperiali però non è perché una perete la guerra e una perete l'utilizzo di tecniche più raffinate chi può fare determinare essere l'arco della bilancia per far pendere nell'attualità l'arco della bilancia da una parte o dall'altra di queste due strategie e quindi chi può decidere se avremo domani una guerra con l'Iran o pure a mio avviso credo che non poter essere sventito è Israele Israele è il mago di grande la bilancia della situazione Israele ha già dichiarato che non accetta un Iran nucleare secondo me io lo dico veramente questo si parla di teatro perché il problema non è accettare un Iran nucleare per questo lo scolete mi parliate perché l'Iran non ha la bomba e non vuole avere la bomba la minaccia esistenziale per Israele non è nucleare è che l'Iran possa diventare una potenza regionale indipendente c'è sottolineo tre volte con la penna rossa la parola indipendente a queste condizioni per Israele l'Iran è una minaccia esistenziale ma quindi è una minaccia assolutamente politica come dire e non di riedizione dell'orocausto come vogliono farci credere le dirigenze le dirigenze israeliane ecco io per il momento concludo qui ho cercato di offrirvi delle maniglie interpretative a cui se volete vi potete fare riferimento a Pugliare nel momento in cui io credo nelle prossime settimane e che si sentirete sempre più parlare dell'Iran dell'Israele dei loro visivi ecco oltre a quello che vi dirà la televisione secondo me è voluto avere come riferimento che sotto ci sono delle potenze delle forze che spingono in maniera veramente straordinaria ecco vi ringrazio benissimo benissimo insomma devo dire che la relazione del dottor Santini oltre ogni ragione non di dubbio è stata completa sotto tutti i punti di vista perché non è stata una lezione diciamo veramente accademica ma ha avuto il pregio di partire da categorie tecniche per poi insomma trascondere su un piano concreto devo dire con gratificazione solo una piccola notazione prima si è accennato a ciò che è sostanzialmente le potenze avverse che all'inizio stanno tentando di fare qualche modo per stabilizzare l'aria ed è bello notizia proprio attualissima oggi in un'AXA oggi 26 maggio dove appunto si parla del fallimento del negoziato assoluto negoziato che si sta cercando di montare avanti da parte di USA Russia Cina Gran Bretagna Francia Germania per trovare appunto una soluzione concordata allo sviluppo migliore che siamo inoltre su un sito insomma di dubbia attentabilità che comunque fa riflettere che comunque insomma dà impulso a riduzioni serie e conderate devo dire che il ministro della difesa israeliano è un Barak proprio insomma prima parlavano di scatti anche di simbari per la partita di esposto e ben detto proprio questo non c'è alcuna ragione per dirci cosa fare e noi non abbiamo ragione di chiedere del panico israeli è molto molto forte ma non dobbiamo sapere che i italiani sono dei giocatori di scatti e faranno di tutto per conseguire la capacità nucleare continua con il ministro della difesa israeliano la nostra posizione non è cambiata il mondo deve fermare l'Iran prima che diventi una potenza nucleare tutte le opzioni restano soltanto beh io correggerei l'inciso del ministro della difesa israeliano nella volta in cui dice il mondo deve fermare l'Iran prima che diventi una potenza indipendente ecco io penso che dietro la parola nucleare si possa leggere proprio la parola indipendente e con questo vi chiedo conclusa le azioni e spero che voi vogliate in qualche modo fare le domande giuste per continuare i dibattiti in maniera seria e approfondire la mia fortuzione mi ringrazio io ho una dottor Santini una domanda che mi faccio chiedo spesso a me stesso senza trovare risposte perché non sono un esperto quindi approfitto dell'occasione se un eventuale cambiamento di leadership attuale in Iran in che maniera potrebbe incidere voglio dire sullo scenario perché mi pare che fino a poco tempo fa si è cercato di destabilizzare soprattutto con l'opposizione diciamo interna diciamo del contraltare dell'attuale presidente ma mi pare che alla fine visto che non ci si è riusciti troppo perché alla fine poi mi pare che questo cambiamento avrebbe delimitato delineato diciamo un cambiamento troppo di posizioni dell'Iran sulla questione nucleare quindi non sarebbe stato un pericolo minore per Israele in quel senso pare che ultimamente è avuto questa impressione che invece si voglia viaggiare addirittura proprio verso un conflitto nucleare se ritiene questa mia impressione fondata in qualche maniera e se mi può dare una conferma o se altrimenti mi può dare una corretta impostazione la ritengo corretta diciamo do subito questa risposta per argomentare leggermente se il pericolo iraniano non è legato alla produzione della bomba ma appunto dal punto di vista di Israele quello dell'ascesa di una potenza regionale indivellente che può contrastare i piani di egemonia sul medio oriente dell'Israele stesso il quale diciamocelo chiaramente Israele ha necessità di svolgere una politica di potenza o Israele esprime una politica di potenza o non esprime niente o non è come lo Stato è una entità che come Annameniciato ha detto più volte è destinata ad essere a scomparire dalle pagine della storia e questa frase è stata come dire rimasticata in chiave manipolatoria dicendo no deve essere cancellato Israele deve essere cancellato dalle carte di graffie no Annameniciato ha detto qualcosa di diverso e più profondo cioè quell'entità politico spirituale in quanto tale come regime di occupazione di una terra è destinato a svanire l'entità del tempo è qualcosa di profondamente diverso ecco se la situazione è questa come dire il nucleare c'entra poco evidentemente si tratta di uno schermo può in questo caso come dire essere meglio per Israele avere gli interlocutori politici una leadership politica di un certo tipo piuttosto che un altro evidentemente sarebbe meglio avere una leadership riformista però anche questo come dire non è necessariamente vero perché negli anni i primi anni del dominio c'era un presidente riformista a Camini il quale tuttavia aveva un profilo nazionale di interesse nazionale molto forte e infatti Bush cerca di buttar fuori a Camini mettendo l'Iran nell'asse del mare aveva proprio questo scopo di delegittimare la politica di Camini quindi che sia conservatore che sia riformista all'interno dello Stato allora lo importa l'importante è che non abbiano un profilo di nazione indipendente per quanto riguarda l'Iran e oggi per esempio il grande distinto politico di potere all'interno dell'Iran è più che altro dentro il campo cosiddetto conservatore poi si tratta di categorie occidentali che noi avviciniamo sopra che in realtà hanno pochissimo senso storico e politico per quanto riguarda l'Iran e Ahmadinejad è come dire nell'occhio del ciclone proprio perché lui porta avanti questo profilo nazionale popolare e nazionale addirittura più della fazione che adesso sta vincendo che noi diciamo tradizionalista islamica della guida spirituale e Ahmadinejad addirittura fa riferimento oltre che all'islam alla tradizione persiana quindi come dire siamo siamo al centro del volere per essere una nazione indipendente quindi in qualche modo ad esempio che Khamenei abbia previsto nei confronti di Ahmadinejad almeno in questa fase poi si verrà in futuro potrebbe essere addirittura l'assicurante per Israele in qualche maniera infatti abbiamo visto che proprio negli ultimi mesi in questa fase di passaggio i negoziati sono stati spinti più avanti c'è stato un certo tentativo di spintare i negoziati però secondo me comunque è un rischio tra virgolette che Israele non si sente di correre di lasciare anche ad una diacrazia più conciliante la possibilità di tenere le regole del paese perché la possibilità che più che superi controllo è sempre troppo elevato secondo me Israele non lo tocca a voi giusto posso fare una domanda prego allora più di una domanda volevo chiedere un raccordo tra quello che ha detto il caro amico Giuseppe Sposito e quando ha detto lei professore io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Giuseppe Sposito che ritengo che effettivamente la Cina è da un punto di vista economico la più grande potenza monetaria mondiale attualmente esistente so per certo che la stragrande maggioranza del debito pubblico negli Stati Uniti è detenuto dalla Cina quindi caso mai dovesse intervenire sull'Iran è abbastanza evidente che la Cina potrebbe chiudere i rubinetti agli Stati Uniti e gli Stati Uniti non avrebbero più i soldi nemmeno per poter avanzare un minimo di attacco all'Iran non so se mi sono spiegato quindi vorrei una spiegazione di come si può conciliare quello che io ritengo giusto che ha detto Giuseppe e la tesi vostra scusate è dire così che gli Stati Uniti potrebbero occupare diciamo indirettamente l'Iran per andare contro la Cina se è vera la tesi vostra è falsa la tesi di Giuseppe che la Cina in pratica comanda dal punto di vista economico comprando le obbligazioni degli Stati Uniti quindi un raccordo tra le due tesi chiederà una spiegazione sull'accordo tra le due tesi insomma è potente non è potente decidete che è potente c'è che sono sì provo rispondere io che timore è stato scoperto che c'era un rapporto dialettico con il medico nessuno senza rispondere allora la questione del debito e del credito appunto può essere vista da due anni da un'azione cioè la Cina effettivamente detiene gran parte del debito degli Stati Uniti e quindi apparentemente è in una posizione di forza e il creditore se due persone si trovano in barità di condizione è evidente che ti metti il credito più forte del creditore ma se il creditore dice mo' io non ti pago che mi fai e allora la Cina potrebbe ritrovarsi di dire dato che io non c'ho compro un grado sufficiente per un porto di pagamento del debito io mi ritrovo con un pugno di carta in mano e questo può essere stata e secondo me è stata una strategia scentemente portata avanti dagli Stati Uniti per quello che dicevo prima cioè di avviungare una faccia una Cina per cui dica alla fine dei conti data la situazione geopolitica data la situazione finanziaria data la situazione economica mo' che fai ti devi accortare con me le regole del gioco le ho detto io le dite i malari sei più forte sono io e finché sono più forte e finché ho avuto il rubimento dell'Iran e di tutti i paesi tu devi stare zitte a fare quello che dico io e useranno la parola di un grande giornalista economico inglese Andros Eros Eros Frutcher il quale diceva nel 2009 va di moda a parlare dell'America come se si trattasse di un mendicante tutto questo dà un'idea sbagliata dell'utilibrio strategico Washington momento racina in ginocchio in qualunque momento chiudendo i mercati non esiste alcuna simetria qualunque mosse di pechino per liquidare i propri pacchetti di voli del tesoro americano potrebbe essere neutralizzato in extremis dai controlli sui capitali gli stati sovrani ben armati possono fare quello che lo offrano ecco che loro possono uno stato sovrano ben armato e voglio impedire che qualunque altro stato diventa sovrano e ben armato è l'ira di l'ira che si ha il seno di l'arrivo che si tenuto la domanda è un tanto questo è un parlo se venirete dovete forza in qualche modo non accedere le cose no scusate ma se viene a leggere alle prime presidenziali interna di generale su azioni io lo stesso ma le presidenziali Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.